Seconda parte del nostro notiziario, sempre in diretta su Teleuniverso, lunghe file nel piazzale del mercato di Alatri, per le visite gratis previste dalla Notte Bianca per la Salute. L'iniziativa messa in campo da medici ed infermieri che dicono no alla riduzione dei servizi nell'ospedale San Benedetto. Tutti in fila per una visita, gratis e subito, senza ricetta né prenotazione. A centinaia hanno risposto alla manifestazione della Notte Bianca per la Salute, l'iniziativa messa in campo ad Alatri dai sanitari che dicono no al piano della manager Isabella Mastrobuono e del governatore regionale Nicola Zingaretti. No alla riduzione dei servizi nell'ospedale cittadino e no al suo accorpamento con lo spaziani di Frosinone. Così, 15 medici più gli infermieri, tutti del coordinamento sanitario provinciale del Comitato San Benedetto, hanno messo in campo il loro tempo e le loro attrezzature private per effettuare, durante tutto il fine settimana, ecografie alla tiroide e all'addome superiore, elettrocardiogrammi, misurazione della pressione sanguigna, controlli della glicemia, visite cardiologiche, tutto gratis, senza liste d'attesa. In circa tre ore, nel piazzale del mercato di Alatri, si è accumulata una fila di oltre 100 persone in attesa. Sono state fatte quasi 200 ecografie, 55 elettrocardiogrammi, una trentina di visite ortopediche, un'ottantina di visite otorino-laringoiatriche e quasi altrettante prove allergiche, un centenaio di esami della glicemia e della pressione. La ASL non ha appoggiato l'iniziativa. Il sindaco Giuseppe Morini ha detto che quella vista in queste ore ad Alatri è la più concreta risposta che potesse dare il volontariato alle inadempienze della sanità pubblica. Ha sottolineato come, con pochi soldi e tanta passione, si sia riusciti a dare risposte concrete alla richiesta di salute che arriva dai cittadini. La Notte Bianca della Salute e il No della ASL a questa manifestazione scatenano la reazione politica del centrodestra. Il manager dell'ASL di Frosinone ha paura della piazza. E' per questo motivo che l'azienda sanitaria locale ha cercato di impedire che si tenesse la Notte Bianca della Sanità da Alatri. Ne è convinto il consigliere regionale Mario Abruzzese che non si spiega il muro alzato dalla manager nei confronti di un'iniziativa di piazza che sarebbe servita anche a smaltire un po' le liste d'attesa. In realtà, nella lettera che il direttore sanitario testa ha inviato agli organizzatori della Notte Bianca della Sanità, veniva loro chiesto di rimuovere i volantini pubblicizzanti l'iniziativa dai locali dell'ospedale di Alatri e che nessuno dei macchinari in dotazione all'azienda sanitaria fosse utilizzato. Per l'esponente forzista alla Pisana, questo atteggiamento denota un timore da parte della direzione aziendale nei confronti di ciò che potrebbe derivare da alcuni effetti della manifestazione stessa, come ad esempio il fatto che la buona sanità in provincia di Frosinone esiste al di là di tagli, paroloni e riconversioni perché basta volerlo. Una buona sanità che potrebbe sicuramente ottenere una maggiore spinta se l'ospedale spaziale di Frosinone fosse elevato a dea di secondo livello, così come rimarca un altro esponente di Forza Italia, Danilo Magliocchetti. Il consigliere provinciale chiama a raccolta la politica del territorio tutta perché la lotta sia comune. Magliocchetti chiede al Partito Democratico, che di fatto è il primo partito in provincia di Frosinone, se ha voglia di sostenere questa battaglia politica per rivendicare il servizio per il capoluogo e per l'intera provincia, oppure se vuole assecondare le decisioni della Regione Lazio, che premia Latina e penalizza Frosinone.